Era stata donata dall'artista al comune nel giorno del primo anniversario della scomparsa del dio del calcio. Poi, in attesa dei dovuti permessi, la statua era tornata nello studio dello scultore, dove è rimasta, quasi per un anno e mezzo, in attesa di tornare al Maradona. Ora la svolta. Fuori allo stadio partenopeo, il bronzo dedicato a Diego Armando Maradona non ci tornerà più. È una vicenda apparentemente complessa, quella che coinvolge Domenico Sepe, scultore partenopeo e l'amministrazione comunale di Napoli, al quale l'artista aveva donato la statua, realizzata sull'onda dell'emozione subito dopo la scomparsa dell'idolo azzurro, affinché fosse posizionata all'esterno dello stadio in sua memoria. L'accordo preso con i responsabili della giunta di Magistris era stato mantenuto anche dagli attuali vertici comunali. Poi, però, a un certo punto, non meglio identificato, la comunicazione tra Sepe e il comune è venuta meno, tant'è che l'artista è venuto a sapere del no definitivo dell'amministrazione a porre la statua fuori dal Maradona indirettamente. Gli uffici comunali hanno rappresentato all'attuale amministrazione la necessità giuridico-amministrativa di procedere ad un atto specifico, come un'apposita delibera di giunta, per assumere determinazioni definitive in merito alla donazione accettata dalla precedente amministrazione, tenendo conto di alcune circostanze sopravvenute, in particolare degli esiti di alcune indagini penali svolte dalla magistratura inquirente napoletana e di approfondimenti istruttori relativi al valore del bene oggetto della donazione. Così recita la nota dell'amministrazione comunale, che spiega le ragioni dietro alla restituzione della statua all'artista. Sepe, dicendosi estraneo a qualsiasi tipo di fatto giudiziario, si è confermato deluso e rammaricato per l'esito della vicenda. Le criticità che ci sono oggi, quindi le motivazioni che ci sono oggi, che il Comune mi ha espresso nella delibera, perché con me non ha parlato, sono le stesse criticità, se criticità sono, del 25 novembre 2021. Quindi parliamo di una cosa astratta, perché se quelle criticità erano criticità, si potevano cambiare, oppure si poteva dire che con questo contratto non possiamo installare l'opera. Io avrei come persona per bene e civile, nel rispetto delle istituzioni, avrei accettato qualsiasi decisione. Il mio rammarico più grande è che si sia arrivati a questo, al momento che stiamo vivendo oggi, in modo, secondo me, non bello, soprattutto nei miei riguardi.